Allora abbiamo donato circa 200 libri alla biblioteca di diritto romano perché l'università rappresenta il centro dei saperi, il luogo dove i giovani sono chiamati a formarsi e vogliamo che Anna-Lisa Durante sia di aiuto ai ragazzi, ai giovani per il proprio futuro. L'università non è solo didattica e ricerca, è attenzione alla formazione della crescita della coscienza civile degli studenti. È di Anna-Lisa. 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 è di tutti quello che noi oggi facciamo probabilmente lo coglieranno le generazioni future noi non lo vedremo neanche ma sarà tanto più significativo quanto più si ridicherà grazie